Da vent'anni che dedichiamo insieme e la musica lirica che dedica con tutti i suoi studenti un concerto alla parrocchia di San Pietro in culto, un concerto in cui i nostri cantanti che provengono da cinque continenti offrono i loro canti ma scegliendo canti religiosi sia europei, quindi dai più grandi compositori nostri tradizionali, che anche dal luogo d'origine, quindi un concerto molto vario in cui c'è il dialogo fra le culture. Grazie a tutti. 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione